Continua a tenere banco nel Vallo di Diano la vicenda degli autovelox truccati. Le indagini condotte dagli uomini della Guardia di Finanza di Sala Consilina hanno portato al sequestro di due autovelox e alla denuncia del comandante della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni di Sant'Arseneo, San Pietro e San Rufo, Giuseppe Landolfi. Ed arriva anche la reazione di Landolfi che respinge con decisione le accuse. In 30 anni di servizio fa sapere Landolfi o sempre agito nel pieno rispetto delle leggi. Landolfi si dichiara fiducioso di poter dimostrare dinanzi ai magistrati l'infondatezza delle accuse. Intanto emergono nuovi particolari sulla vicenda che parte da una denuncia presentata il 20 marzo del 2008 da Giuseppe Procaccio, consigliere comunale di San Pietro e Altanagro, per conto di decine e decine di automobilisti illecitamente multati ed ovviamente imbufaliti. Procaccio aveva immediatamente collegato quello che stava accadendo nei comuni di San Pietro, Sant'Arseneo e San Rufo con un'inchiesta portata avanti dalla trasmissione Le Iene di Italia 1, in cui si evidenziava come una ditta del Nord Italia affittasse ai vigili urbani apparecchiature per il controllo della velocità per poi incassare attraverso un giro vizioso più della metà degli introiti, con un danno patrimoniale sia a carico dei comuni che dei cittadini, e molto spesso con la complicità dei comandanti dei vigili urbani locali. Un meccanismo molto semplice, più multe, più introiti. Nel caso dell'Unione dei Comuni, le multe notificate presentavano nella maggior parte dei casi errori evidenti, visto che come l'indagine portata avanti dalle fiamme gialle di Sala Consilina è evidenziato, le procedure a riguardo erano totalmente irregolari ed arbitrarie, e portate avanti da persone senza alcun titolo. Il risultato è stato quello di creare enormi danni sia alle amministrazioni interessate che ai cittadini. Basti pensare che più del 60% delle infrazioni contestate su un totale di oltre 400 infrazioni rilevate in pochi mesi sono state archiviate dal giudice di pace o dalla prefettura, procurando anche un enorme mole di lavoro e costi esorbitanti per gli uffici interessati.